C'è un vecchietto, c'è un forte desiderio, prima di morire vorrebbe fare un volo su un aereo acrobatico sicché va a pratica di mare dove ci sono tutte le frecce tricolori, corrompe un pilota e si fa cariare sull'aereo per fare sto volo sicché mentre il pilota è lì che vola a un certo punto parte per aria in verticale a tutta velocità e il vecchietto fa questa me l'aspettavo poi dopo un pochino il pilota tutto giù un picchiata e il vecchietto, questa me l'aspettavo il pilota sentendo che il vecchietto si diverte, chiappa, si gira all'aereo e vuole la testa in giù questa me l'aspettavo poi atterrano, quando arrivano a terra il pilota però è incuriosito di fare il vecchietto scusi eh, ma perché diceva me l'aspettavo, me l'aspettavo e poi ha detto me l'aspettavo eh te lo spiego subito, quando sei partito in verticale e mi son pisciato sotto e me l'aspettavo quando poi sei andato giù un picchiata e mi son cagato sotto e me l'aspettavo quando sei girato al contrario e mi è arrivato tutto nel muso quello me l'aspettavo ciao